Un'inattesa scoperta è quanto ha regalato in queste settimane il prezioso restauro di Palazzo Sturm. Nascosti da decenni sotto gli intonaci delle pareti del quarto e del quinto piano, stanno facendo la loro comparsa bellezze antiche, come l'immagine che state vedendo. Un cane da caccia tenuto a catena perfettamente conservato. Di quest'opera, come delle altre che stanno tornando alla luce in queste settimane, sarà ora compito degli esperti ricostruirne origini e storia.